Sono stanca ma serena, ho una grande fiducia nella magistratura, così il ministro delle politiche agricole Nunzia De Girolamo si prepara ad affrontare il giorno del giudizio in aula a Montecitorio, dove stamattina, dopo un lungo vertice notturno con i legali Gaetano Pecorella e Antonio Leone, dovrà spiegare il retroscena di quelle registrazioni nelle mani della procura di Benevento, dove la sua voce è presente ed è riconoscibile come tale e i temi affrontati sono pressioni in debite per gli appalti alla ASL locale. Il presidente del Consiglio Enrico Letta ha assicurato massimo rigore. Il PD non aspetta a braccia aperte la De Girolamo dopo l'esplicita presa di posizione di Renzi per dimissioni da doversi dare, come nel caso della idem, perlomeno per questione di stile. Ma c'è di più. Anche scelta civica, un tempo schieramento alleato della De Girolamo, ieri ha cambiato faccia e tramite la deputata Giannini ha fatto capire alla De Girolamo che anche lì pensano alle dimissioni sue come un fatto necessario a non turbare il lavoro del governo, a non creare ulteriori imbarazzi. Dovrebbe dimettersi tutto il governo, preme l'acceleratore e il leader di Selle, Nicchi Vendola. I Cinque Stelle hanno presentato una mozione di sfiducia individuale. Il partito della De Girolamo, il nuovo centrodestra, difende il suo ministro e denuncia la pubblicazione delle registrazioni che la riguardano e assicura che la De Girolamo è in grado di chiarire tutto in Parlamento. L'appuntamento è per le ore 9 di oggi a Montecitorio. Tra breve si capirà delle pressioni del direttorio per gli appalti del 118, per il bar dell'ospedale di Benevento assegnato allo zio della De Girolamo e per le mozzarella. Se fosse provato, come affermato ieri a servizio pubblico da Michele Santoro, che è stato l'avvocato della De Girolamo a consegnare l'audio al TG5, si arriverebbe al paradosso di una registrazione, come spiega tra gli altri oggi il Fatto Quotidiano, che viene definita illegale ed abusiva se consegnata al difensore di Pisapia, mentre diventa la prova dell'innocenza se a fornire il legale del ministro.